Ciao a tutti! Proseguiamo con Trapcode Particular. Oggi ci occupiamo ancora di particelle esterne, solo che a differenza della lezione precedente, nella quale abbiamo usato particelle statiche, cioè disegni e foto senza animazioni. Oggi invece vediamo cosa succede quando le particelle sono animate e come vedremo possono essere animate da noi direttamente in After Effects oppure possono essere dei veri e propri video già pronti. Bene, iniziamo col resettare l'effetto cliccando sul solito pulsante Reset qua su in cima e eliminiamo le particelle che abbiamo usato nella scorsa lezione. quindi seleziono tutte queste quattro particelle e le cancello. Oggi invece useremo queste particelle qua che come vedete sono quasi tutti quanti dei video ad eccezione di questo file Illustrator che è il disegno di una farfalla. Come al solito se anche voi volete usare gli stessi file potete scaricarli dal link che trovate nella pagina del tutorial. Poi li importiamo in After Effects e i video come vedete qua li importiamo direttamente come semplice footage mentre la farfalla la importiamo come composizione perché è composta da due livelli che devono rimanere separati anche in After Effects. Bene, quando parliamo di particelle animate possiamo essenzialmente dividerle in due categorie. quelle che hanno un'animazione che si ripete sempre uguale quindi un'animazione che va in loop e quelle che invece hanno un'unica animazione con un inizio e una fine. Diciamo che di solito quando si prepara una particella animata per Particular quasi sempre ha un'animazione in loop ma noi comunque vedremo entrambi i casi. Bene, iniziamo appunto con una particella con un'animazione in loop, una farfalla che batte le ali. Quindi doppio clic su farfalla, come vedete appunto a due livelli noi dobbiamo animare il livello ali e come abbiamo anche già fatto in uno dei primissimi esercizi del corso dobbiamo animare la proprietà scala. E siccome devo animare soltanto la larghezza spengo questo pulsante con la catenella in modo che larghezza e altezza siano indipendenti. Quando si prepara un'animazione in loop per Particular non bisogna ripetere questa animazione per tutta quanta la durata della composizione ma soltanto una volta. In questo caso quindi animiamo un solo battito d'ali e poi ci penserà Particular a ripetere in loop. Quindi iniziamo. Al tempo zero la larghezza la lasciamo così al 100% quindi accendiamo l'orologio di scala. 5 o 6 frame dopo stringiamo le ali più o meno al 50% e dopo altri 5 o 6 frame riportiamo la larghezza delle ali esattamente come all'inizio quindi di nuovo 100%. E questa è l'animazione di un battito d'ali ed è importante quando si prepara un'animazione in loop che l'ultimo frame sia identico al primo in modo appunto che l'animazione si ripeta sempre uguale. Benissimo adesso magari selezioniamo tutti i keyframe e li ammorbidiamo con l'easy ease quindi clicco il tasto f9 e ora dobbiamo accorciare la durata della composizione esattamente quanto la durata di questa animazione. Quindi come abbiamo fatto anche nella lezione precedente prendiamo il margine destro della barra della preview lo portiamo sull'ultimo keyframe clicchiamo col tasto destro sopra la barra della preview e attiviamo trim comp to work area. A questo punto la composizione dura esattamente quanto l'animazione del singolo battito d'ali che come vedete va in loop perfetto. Benissimo. Ora torniamo nella composizione di particular e aggiungiamo la particella farfalla quindi la prendiamo la mettiamo qui. Come al solito la prima cosa che facciamo è far sì che la particella originale non si veda nella timeline quindi spegniamo l'occhiolino qui a sinistra selezioniamo di nuovo particular riattiviamo il controllo effetti e la prima cosa da fare è collegare particular alla farfalla quindi andiamo al parametro particle type e dal menu dobbiamo scegliere una delle due opzioni o sprite o textured polygon. In questo caso scegliamo l'opzione textured polygon in modo che poi abbiamo anche la possibilità di riorientare a piacere la particella quindi appunto textured polygon e a questo punto il collegamento lo facciamo nella sezione texture al parametro layer da questo menu dobbiamo scegliere appunto il livello farfalla. Benissimo come vedete ora al posto delle sfere bianche abbiamo le farfalle. La prima cosa che facciamo è aumentare la dimensione quindi andiamo al parametro size e in questo caso possiamo aumentarlo intorno ai 60 più o meno e magari aumentiamo un poco anche la size random in modo che variamo un poco anche la grandezza. Diminuiamo un po' anche la quantità in modo che si distinguano bene le farfalle le une dalle altre quindi torniamo nella sezione emitter il primo parametro lo abbassiamo da 100 a più o meno 10 e magari facciamo sì anche che le farfalle non muoiano dopo 3 secondi come succede adesso quindi torniamo di nuovo in particle e aumentiamo il parametro life da 3 appunto a più o meno 10 in modo che le farfalle siano sempre visibili per tutta la durata della composizione. Bene e facciamo anche in modo che ogni farfalla si metta in direzione del suo percorso quindi attiviamo la funzione che le orienta automaticamente questa funzione la troviamo nella sezione rotation come sappiamo e si chiama orient to motion. La attiviamo su on a questo punto ogni farfalla si mette in direzione del suo percorso e però come notate tutte quante le farfalle sono messe di lato quindi bisogna correggere di 90 gradi la rotazione intorno al loro asse z. Benissimo ora tutte le farfalle sono rivolte lungo il loro percorso. E come ultima cosa magari facciamo che attraversino la scena dal basso verso l'alto quindi abbiamo bisogno che nascano da un box largo come la composizione messo fuori in basso qui e che spara tutte quante le particelle verso l'alto quindi torniamo di nuovo nella sezione emitter impostiamo come tipo di emitter box appunto ora facciamo sì che tutte quante le particelle abbiano la stessa direzione quindi andiamo nel parametro direction e dalle sue opzioni attiviamo l'opzione directional come sappiamo ora tutte le farfalle vengono sparate lungo l'asse z ma noi possiamo ruotare l'emitter verso l'alto se agiamo sul parametro x rotation e in questo caso dobbiamo aumentarlo di 90 gradi così e ora le farfalle vanno tutte quante verso l'alto e a questo punto modifichiamo la dimensione del box andiamo in emitter size impostiamo x y individual in modo che possiamo agire indipendentemente sulla larghezza altezza e profondità del box aumentiamo un po la larghezza del box e poi mettiamo il box fuori in basso in modo che le particelle nascano fuori dalla composizione quindi col parametro position spostiamo il box fuori in basso in modo appunto che all'inizio le farfalle nascono fuori e poi entrano nella composizione ma come subito notiamo le farfalle sono troppo lente quindi aumentiamo anche il parametro velocità e da 100 lo portiamo a circa 400 benissimo e come ultima cosa prima di concentrarci sui parametri che gestiscono il modo di andare in loop delle particelle facciamo sì che particular non continui a generare particelle per tutta la durata della composizione ma che le faccia nascere soltanto all'inizio e poi basta quindi dobbiamo impostare il primissimo parametro di particular questo emitter behavior anziché su continuous su explode in modo appunto che le particelle nascono al primo frame e poi non ne nascono più ovviamente facendo così ci rimangono poche particelle quindi dobbiamo di nuovo aumentare il parametro delle particelle al secondo io direi più o meno 3 400 direi che è sufficiente e adesso come vedete un gruppo di particelle nasce subito all'inizio poi dopo non ne nascono più perfetto e ora concentriamoci appunto sui parametri che gestiscono il modo in cui le particelle vanno in loop e queste opzioni le abbiamo appunto nel parametro time sampling che al momento è impostato su random loop quindi appunto significa che al momento le particelle vanno in loop e infatti se facciamo una preview vedete che appunto ogni particella ripete in loop l'animazione di quel singolo battito d'ali quindi questa opzione che è già impostata di default è perfetta per questa situazione qui però come notate qui abbiamo diverse altre opzioni e tutte queste opzioni sono essenzialmente divise in tre categorie che sono quelle che cominciano con start at birth ne abbiamo tre di questo tipo oppure con random ne abbiamo altre tre oppure con split clip e poi ce ne sono altre due una all'inizio e una alla fine che sono sicuramente le meno usate in assoluto con particola e che nella lezione di oggi ignoreremo completamente quindi appunto ci soffermeremo sulle opzioni di queste tre categorie innanzitutto diciamo che le opzioni dell'ultima categoria quelle di split clip si usano solo quando dobbiamo usare un gruppo di diverse particelle animate quindi queste le vedremo poi per ultime quando invece abbiamo una sola particella animata come in questo caso allora ci interessano le altre opzioni e fra queste quelle che hanno la dicitura loop come questa sono quelle adatte a mandare in loop l'animazione preparata e come vedete ce ne sono due c'è random loop e start at birth loop le altre opzioni quelle che hanno play once o stretch servono a riprodurre l'animazione una volta sola e quindi sono adatte a particelle che hanno una unica animazione quindi le vedremo dopo quindi in questo caso particolare non ci rimangono che queste due opzioni random loop e start at birth loop quindi adesso attiviamo questa qui start at birth loop e come si vede bene anche in questo caso l'animazione del battito d'ali va in loop però se guardate attentamente le farfalle sono perfettamente sincronizzate hanno tutte quante lo stesso ritmo del battito d'ali e questo succede perché tutte quante le farfalle cominciano dal primo frame dell'animazione tutte quante allo stesso modo mentre invece con l'opzione random loop le farfalle non sono più sincronizzate perché ogni farfalla comincia in un punto a caso dell'animazione originale quindi ripetiamo la differenza tra queste due opzioni che con start at birth loop tutte le particelle hanno l'animazione sincronizzata uguale perché l'animazione comincia esattamente dal primo frame start at birth appunto significa che cominciano tutte dall'inizio mentre nell'opzione random loop ognuna comincia in un punto a caso dell'animazione in modo casuale random quindi ogni farfalla batte le ali in modo diverso dalle altre e in questo caso particolare possiamo dire che l'opzione più azzeccata più giusta è sicuramente questa qui la seconda random loop benissimo passiamo ora al caso di una particella con un'animazione unica che non va in loop però prima di cominciare direi di risettare di nuovo particular quindi di nuovo clicco sul pulsante reset e questa volta come particella usiamo un'animazione già preparata questo elemento qua scintille se ci facciamo doppio clic vediamo subito di cosa si tratta si tratta appunto di scintille che esplodono dal centro si allargano e svaniscono quindi un'animazione che ha un inizio e una fine diversi e noi vogliamo che questa animazione venga usata una volta sola per ogni particella quindi torniamo in particular aggiungiamo questa particella nella timeline come al solito la spegniamo subito riattiviamo il controllo effetti e in particle type scegliamo una delle opzioni tra sprite e texture ed polygon in questo caso siccome non abbiamo l'esigenza di riorientare la particella come vogliamo noi possiamo scegliere anche l'opzione più semplice sprite poi scendiamo nella sezione texture al parametro layer colleghiamo particular al livello scintille e come sempre ci succede le particelle sono troppo piccole per cui dobbiamo ingrandire la dimensione questa volta magari intorno al 100 poi magari diminuiamo come al solito un po la quantità in modo che si distinguano bene le particelle quindi in emitter diminuiamo anche questa volta intorno ai 10 e facciamo sì che le particelle nascano da un box in uno spazio un po più grande quindi come opzione di emitter type al posto di point mettiamo box e ultima cosa non vogliamo che queste particelle si muovano nello spazio vogliamo che rimangano lì dove nascono quindi gli azzeriamo la loro velocità iniziale quindi il parametro velocity lo portiamo a zero quindi dove le particelle nascono li rimangono adesso concentriamoci di nuovo sul parametro time sampling come prima e come al solito la prima opzione che particular ci dà è random loop questo significa che ogni particella manda in loop sempre la stessa animazione quindi si ripete sempre ma noi vogliamo che ogni particella riproduca una volta sola l'animazione quindi quella che è adatta a noi dovrebbe essere questa start at birth play once cioè comincia l'animazione dall'inizio e la riproduco una volta sola play once appunto proviamo facciamo una preview adesso ed è perfetta ogni particella riproduce una volta sola dall'inizio l'esplosione quindi ogni particella un'esplosione benissimo naturalmente ci sono altre opzioni disponibili in questo caso abbiamo per esempio l'opzione random play once proviamola in questo caso ogni particella riproduce una volta sola l'animazione solo che purtroppo non parte dall'inizio questo lo vediamo già fin dalla prima particella vedete che comincia in un punto a caso dell'animazione più o meno a metà e poi la conclude quindi in questo caso è praticamente inutile quasi tutte le particelle si perdono praticamente la prima parte dell'animazione però abbiamo un'altra opzione che riproduce l'animazione una volta sola che è questa start at birth stretch proviamola di nuovo tutte quante le particelle cominciano animazione dall'inizio però se facciamo una preview notiamo le animazioni sono più lente rispetto all'originale perché con questa opzione la durata dell'animazione non è più quella originale che in questo caso come si vede bene qua dura un secondo ma ora durata dell'animazione dipende dal parametro life che al momento è impostato su tre secondi e quindi se per esempio noi questo parametro rimettiamo a 1 la velocità dell'animazione è uguale all'originale se l'aumentiamo rallentiamo l'animazione originale e se lo diminuiamo velocizziamo la velocità originale quindi riassumiamo quando abbiamo una particella con un'unica animazione che ha un inizio e una fine le possibilità essenzialmente si riducono a due start at birth play once e la particella ha esattamente l'animazione che ha la particella originale oppure start at birth stretch e a quel punto la durata dell'animazione viene gestita dal parametro life benissimo adesso vediamo come si prepara un gruppo di diverse particelle animate incominciamo con un gruppo di particelle che hanno tutte quante un'animazione in loop e un po come abbiamo visto nella lezione precedente anche in questo caso bisogna metterle tutte in fila all'interno di una composizione e poi usare la composizione come particella e in questo caso usiamo tre video che contengono tre frutti l'arancia la fragola e il kiwi e tutti e tre compiono un'intera rotazione su se stessi nello spazio e questa animazione ovviamente vogliamo che vada in loop senza smettere mai quindi la prima cosa come abbiamo detto dobbiamo creare una composizione e mettercele dentro tutte e tre quindi composition new composition chiamiamo questa composizione per esempio frutti la facciamo quadrata esattamente con i valori già impostati qua 400 pixel in larghezza e 400 in altezza e come durata lascio i 10 secondi che sono già impostati qua e do l'ok benissimo prendiamo i tre video l'arancia la fragola e il kiwi le inseriamo tutti e tre nella composizione e come vedete tutti quanti hanno la stessa durata in questo caso di due secondi e questa è una cosa molto importante da ricordare cioè se si vogliono usare più particelle animate contemporaneamente devono per forza avere la stessa durata non possono avere durate differenti perché particolar si aspetta che tutte quante siano lunghe uguali bene la seconda cosa da fare è metterle in fila quindi spostiamo la fragola qua e l'arancia qua in modo appunto che dove finisce una comincia l'altra perfetto ora dobbiamo accorciare la composizione in modo che sia lunga esattamente come i tre video quindi come prima prendo la barra della preview la porto sull'ultimo frame del terzo video clicco col tasto destro e attivo trim comp to work area bene torniamo nella composizione di particolar inseriamo la composizione frutti e la spegniamo torniamo in particolar e dal parametro layer associamo le particelle alla composizione frutti perfetto e ora però andiamo a impostare l'opzione corretta di time sampling quindi apriamo il suo menu e come abbiamo detto all'inizio della lezione le opzioni in questo caso che ci servono sono quelle della sezione split clip perché noi dobbiamo far sì che particolar divida in tre parti questa composizione e poi ogni particella scelga a caso una delle tre parti e la manda in loop quindi come è abbastanza intuibile l'opzione utile per noi è chiaramente split clip loop quindi scegliamola ma naturalmente particolar ha bisogno di sapere in quante parti dividere la composizione e questo lo decidiamo impostando il numero giusto il parametro number of clips numero di clip che appunto nel nostro caso anziché due come è impostato qua dobbiamo metterlo appunto su tre quindi così facendo particolar ha diviso in tre questa composizione e ogni particella poi sarà uno a caso dei tre video facciamo una preview quindi ogni particella o è una fragola o è un kiwi o è un'arancia e le loro animazioni vengono riprodotte in loop e non smettono mai benissimo e adesso l'ultimo caso cioè quello di un gruppo di particelle che hanno un'unica animazione che non va in loop in questo caso gli elementi che usiamo sono un cerchio un quadrato e un triangolo e tutte e tre hanno la stessa animazione cioè si allargano dal centro e si assottiglia il bordo benissimo quindi innanzitutto creiamo una composizione che le contenga quindi composition new composition chiamiamo la composizione forme lasciamo come dimensione 400 per 400 e durata la lasciamo a 10 diamo l'ok prendiamo i tre elementi il cerchio il quadrato e il triangolo li mettiamo nella composizione come prima li mettiamo in fila quindi il quadrato qui e il cerchio qui accorciamo la composizione portiamo la barra della preview sull'ultimo frame tasto destro trim comp to work area quindi abbiamo i tre video messi in fila benissimo torniamo nella composizione di particolar inseriamo la composizione forme come al solito spegniamo il suo occhiolino per renderla invisibile torniamo in particolar e colleghiamo particolar a livello forme al momento ogni particella ripete in loop l'esplosione ma questo invece non va bene vogliamo che ogni particella esegua una sola volta l'esplosione quindi nel parametro time sampling chiaramente non va bene split clip loop ma abbiamo bisogno di una delle altre due incominciamo dalla prima split clip play once che significa dividi la clip e riproduci una volta sola proviamo anche in questo caso la clip deve essere divisa in tre parti quindi number of clips è già impostato correttamente e quindi se facciamo una preview funziona esattamente come ci aspettiamo ogni particella è a caso uno dei tre video e lo riproduce una volta sola benissimo e un po come nel caso della particella singola abbiamo anche l'opzione split clip stretch e questo come ben sappiamo significa che il tempo dell'animazione non è più il tempo originale dei video che era appunto di un secondo ognuna ma dipende dal parametro life che in questo caso è ancora impostato su 5 quindi se faccio una preview vedo che ogni forma ci impiega 5 secondi a esplodere anziché un secondo come era all'origine e quindi se mettessi il valore di life di nuovo a 1 avrai l'animazione identica a quella originale e addirittura se aumento il parametro successivo life random posso variare anche la durata di ogni particella in modo che qualche animazione sia più lenta e qualche animazione sia più veloce di un secondo quindi anche l'opzione split clip stretch in certi casi può avere comunque la sua utilità benissimo per oggi finiamo qua nella prossima lezione vedremo i parametri della sezione physics di particolar molto importanti che gestiscono le forze che possono intervenire sulle particelle come ad esempio la gravità il vento la turbolenza eccetera eccetera bene e quindi alla prossima ciao